Musica Nuova avventura di poker, targata all'intv e acesbook, ormai c'è un gemellaggio in atto, Laura ormai me l'hanno pioppato, però... Sto bene con Fabio Prenditi Laura e vai. Detto questo noi siamo tornati a Bernò perché il Tana delle Tigre è un elemento a cui teniamo particolarmente, è un elemento fantastico, gli organizzatori, la location, il posto è eccezionale. Basta vedere anche i numeri. I numeri sono impressionanti, però li raccoltiamo domani perché oggi in via assolutamente eccezionale ci occupiamo del satellite. Satellite che vede addirittura 220 giocatori. Satellite pazzesco, noi vogliamo portare le telecamere giù per farvi rendere conto di quello che sta succedendo, quindi straordinario oggi per noi perché dovremmo partire domani, ma una chicca, una pillola su questo satellite lo vogliamo fare. Sempre a Bobby Centrum, sempre il Tana delle Tigre, sempre con l'intv e acesbook. Fantastico, andiamo a giocare. 220 players per giocarsi questo satellite, per farvi capire quanto sarà intenso poi il main, perché insomma dal satellite ci rendiamo conto che l'affluenza è pazzesca. Giovanni Scotto, ultimo vincitore del Tana delle Tigre. Qui al satellite, ultime cifre, 215 giocatori. Belle cifre, siamo 215. C'è ancora un livello per poter entrare, quindi il numero sicuramente aumenterà. Ma io non posso rientrare più se vado fuori. Domani pusciamo senza figure. Domani cerchiamo di difendere il titolo. Domani bisogna difendere per forza il titolo. Ci fai saluto. Ciao a tutti. Questo satellite è importante perché i numeri dicono che 220 players sono tanti. 220 sono tanti appunto, come dici tu, e 33 arriveranno a vincere il ticket per il main. 33 vinceranno il ticket per il main, che poi insomma è il motivo per cui siamo tutti qui. Buonasera, anche PIV qui al super satellite del Tana delle Tigre. Siamo in tantissimi, siamo più di 190, spero di riuscire a arrivare o di fare subito un double up o di uscire perché durerà ore e ore. No, comunque gli ultimi dati ci danno 215 giocatori. 215 giocatori sono tantissimi per il satellite e domani saranno 400 per il main event. Speriamo e poi domani si vedrà come andrà. Assolutamente sì. Ciao a tutti gli amici di Facebook. Ciao. Ciao. Sì, infatti questo satellite darà 33 ticket per il main. I primi 33 andranno direttamente al main di domani. Chi non vincerà il satellite probabilmente lo giocherà lo stesso perché sono qui per giocare. Un in bocca al lupo a tutti questi ragazzi che stanno provando con questo primissimo assaggio del poker che viveremo. Tre giorni, una maratona intensissima fino al final table. Noi ci saremo fino all'ultima mano. E noi auguriamo ovviamente buon gioco a tutti. Oggi era solo una pillola, da domani si parte e si fa sul serio. Domani sarà questa grande festa soprattutto di apertura. Mi raccomando, seguitici tutti. Seguitici tutti. OlinTV e Facebook potete venirci a trovare in un sacco di modi. Non avete una buona scusa per non seguirci perché il Tana dei Tiki va seguito fino alla fine. Mi raccomando, seguitici. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi. Grazie per la visione